Il DPCM è un provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown. Se potessi dare un voto, darei 8. Quanto sono preoccupato, come lo ero a marzo. Lo ha detto il professor Andrea Crisanti a Un giorno da pecora. Quello che non è stato fatto lo avrei fatto mesi prima creando un sistema di sorveglianza per non trovarci in questa settimana. Ho detto già in passato che non condividevo i provvedimenti relativi a cinema e teatri. Mi auguro che le misure, un compromesso tra il no al lockdown e le esigenze di sicurezza, facciano effetto con una stabilizzazione e un calo dei contagi. Ma poi, come consolidiamo questo risultato? Non si può andare avanti con questa spirale. Studi in altri paesi indicano che questo tipo di misure dovrebbero stabilizzare i contagi, ha aggiunto Crisanti. Secondo l'esperto, dobbiamo avere immuni, un sistema di tracciamento, un potenziamento dei tamponi. In un contesto simile, anche immuni funzionerebbe.